Una bella parete, un vano, posti ideali per sistemare l'angolo più tranquillo di casa vostra. Un salotto e un divano. Un divano con un suo segreto. Un segreto che si svela in tre secondi. Uno, due, tre. Ed eccolo trasformato in un letto già pronto. Divano Beddy, trasformabile in letto in tre secondi. Artisti e tecnici hanno contribuito alla creazione del Beddy. Il divano perfettamente inseribile in ogni tipo di arredamento. Funzionali, comodi, eleganti, i divani Beddy creano il vostro confort e la vostra intimità. Divani Beddy, trasformabili in letto pronto in tre secondi. Grazie. Grazie.